L'ultimo libro di Karen Blixen è un libro di racconti, Capricci del destino. Questo libro contiene cinque racconti, tra i quali uno, anzi due molto famosi, Il pranzo di Babette e La storia immortale, e poi altri tre un po' meno famosi, Il pescatore di perle, Tempeste e L'anello. Quattro di questi racconti li ho letti, due sono prossimo a postarli. Il quinto, Tempeste, lo leggerò quanto prima, ci vorrà qualche giorno perché è un racconto piuttosto lungo. Ma ho intenzione di leggerli tutti perché sono racconti tutti molto belli e importanti. Diciamo, Il pranzo di Babette che ho appena postato, forse è il più conosciuto di tutti. È stato tratto un film famoso di Gabriel Axel. E tra l'altro questo film è molto fedele al racconto. È fedele anche nei tempi, perché più o meno i tempi del racconto sono quelli del film. E anche la sceneggiatura, e soprattutto la voce narrante, racconta frasi prese pari pari dal testo, dal racconto. Un bel esempio di trasposizione cinematografica di un racconto rispettando molto il testo, insomma con questo grosso rispetto del testo. Anche un altro racconto è stato oggetto di un film molto importante, sempre tratto da questa raccolta, e cioè La storia immortale. Dalla storia immortale ne ha tratto un film, un lungometraggio, addirittura Orson Welles, utilizzando poi musiche di Satie. Con Orson Welles stesso come protagonista di questo racconto, comunque ho già fatto, l'ho letto, e ho già fatto anche una breve recensione, insomma, per quello che posso, che riesco a fare. Insomma, quindi ho già detto qualcosa, se avete voglia potete andarlo a recuperare. Ci sono altri due film, secondo me, non tratti da questi racconti, ma altri due film interessanti tratti da due libri, film che hanno la qualità di essere molto fedeli e di rispettare molto bene anche l'atmosfera del libro, insomma, quindi di non interferire. Insomma, sono film che valgono quanto il libro, quanto il racconto, io di solito preferisco il racconto al film, insomma, o il libro. Accendo soltanto ai titoli, insomma, uno è Presenze di Kosinski, il film, non so, credo se fosse lo stesso, oppure Chance il Giardiniere, insomma, è conosciuto con questo titolo. E l'altro è Tutte le mattine del mondo, di Kinar, altro film molto bello, che rispetta molto fedelmente il testo, quindi leggere il testo o vedere il film, insomma, si respira la stessa atmosfera e la stessa bellezza, sono tutti molto belli, anche come libri, perché poi sono anche libri molto essenziali, in cui il modo di raccontare, anche di questi racconti della Blixen, è molto essenziale, quasi con una dinamica epica, insomma, ti porta a leggere quasi come se leggessi qualcosa di epico, di importante, insomma. Allora dirò qualcosa sul pranzo di Babette, cercando di individuare la chiave di questo racconto, cioè la cosa più importante che questo racconto ci vuol dire. E la cosa più importante io la trovo soprattutto nell'ultima parte del racconto, diciamo, il dodicesimo capitolo che si intitola La Grande Artista, perché secondo me la chiave di questo racconto è la vita dell'artista e la problematica dell'artista e di come si muove l'artista. In questo caso l'artista è Babette, che come avrete capito ascoltando, avendo visto il film, no, è la protagonista, questa cuoca, che era una grandissima cuoca, che lavorava a Parigi al caffè anglais, des anglais, e che era frequentato da tutta la nobiltà dell'epoca, in cui un pranzo per dodici costava dieci mila franchi, e lei era rinomata, molto rinomata, insomma era la più grande cuoca del mondo, qualcosa per cui valeva la pena anche sfidarsi a duello, insomma qualcosa per cui forse voleva la pena anche morire, perché riusciva a, come dire, a soddisfare le esigenze più raffinate, i parati più raffinati, e quindi insomma a dare senso al piacere di chi sapeva cogliere i suoi manicaretti, insomma, i suoi prodotti, quello che lei cucinava. Questo personaggio protagonista è quindi un artista, e lei stessa si definisce un artista, e vive una contraddizione, insomma, perché in realtà chi sapeva apprezzare il suo lavoro, e quindi chi sapeva apprezzare i suoi piatti, e le persone che riusciva a rendere felizi, a un certo punto sono morte, nel senso che c'è stata una rivoluzione in Franza. Lei ha combattuto dalla parte avversa, con i comunardi, e quindi è stata costretta a rifugiarsi all'estero, in questo caso in Norvegia, in questo paese della Norvegia. Insomma, il suo destino cambia, diventa un anonimo personaggio, quando entra in questo villaggio al servizio di due anziane signorine, signorine, rimaste zitelle, che vivono in questa realtà triste, cupa, protestante, molto religiosa, nel ricordo e nella venerazione del loro fondatore, del loro padre fondatore, e quindi vivono una vita fatta di rinunce, in qualche modo di sacrifici personali. All'interno del gruppo, che diventa sempre più vecchio, poi ci sono piccole invidie, risentimenti personali, e quindi questo gruppo diventa sempre più chiuso, più limitato, più triste. E le due signorine, in qualche modo, si occupano, la ospitano, e lei vive da 13 anni nel momento della storia in questa casa, la ospitano e lei si dedica, diciamo, completamente, insomma, alla cucina, al loro servizio, senza voler niente, in cambio dell'ospitalità. Ma questo film, lo dice chiaramente, non sto a raccontarvelo. La cosa più importante invece, secondo me, è la tematica, la problematica che viene fuori nell'ultimo capitolo, e che il film non dice chiaramente, il film in qualche modo trascura alcune battute che, secondo me, sono fondamentali per capire qual è la chiave con cui leggere questo racconto, che racconta anche un po' la dinamica, lo scontro tra due culture, quella francese, quella libera, anche, diciamo, gaudente, in qualche modo, e invece questa cultura norvegese chiusa, protestante, bloccata in una vita austera, fatta di rinunce e di tristezza. E lei dà un senso, riesce a dare un senso con la sua presenza e con la sua creatività a questa comunità in cui si inserisce, senza mai dire niente di se stessa per 13 anni, no? Quindi lei agisce nell'ombra, senza mai farsi valere, senza mai dire quello che voleva, senza mai neanche lasciare sospettare da dove veniva e chi era. Ma, diciamo, facilita la vita, facilita l'attività di benefattrici delle signorine e anche nella comunità, insomma, in qualche modo viene sentita la sua presenza in maniera positiva. Lei mantiene un legame con la Franza, che è un legame fatto di un biglietto della lotteria che ogni anno rinnova tramite un amico e finalmente riceve la notizia che ha vinto alla lotteria e ha guadagnato 10.000 franchi. E con questi 10.000 franchi chiede il favore alle signorine di poter dare questo, diciamo, offrire in occasione del centenario della morte del fondatore un pranzo, chiede il permesso di andare per qualche giorno, di poter andare fuori del paese per acquistare gli ingredienti, si fa arrivare agli ingredienti e prepara questo pasto. Prepara questo pranzo che trova però i 12 ospiti molto prevenuti, perché le signorine sono spaventate da questa iniziativa, insomma, no? L'opera del diavolo, qualcosa che in qualche modo spaventa l'equilibrio di questa comunità già in crisi e quindi viene comunque boicottata, nel senso che tutti quanti, la comunità, si mette d'accordo per evitare di fare qualsiasi commento rispetto a quello che mangeranno quella sera. E lì, insomma, si assiste, insomma, alla preparazione di questo pranzo, preparazione splendida, straordinaria, in cui, insomma, lei finalmente riesce a mettersi in gioco come artista. E allora, nell'ultimo capitolo, ci sono alcune cose che vengono dette e che ci aiutano a capire qual è anche la realtà dell'artista. E qual è stato anche un po' il suo dramma, ma, diciamo, in questo scontro, incontro di due culture diverse, così diverse, in cui lei è una rappresentante, insomma, della cultura più evoluta, più avanzata, diciamo, rispetto a una cultura tradizionalista, bloccata, chiusa, in un piccolo paese, in una piccola realtà che non conosce poi la realtà del mondo, fatta di rinuncia, perché poi le sue due zittelle che la ospitano a casa loro hanno, si capisce nel film, ma questo è nel racconto, ma lo avete già visto, insomma, hanno rinunciato anche alla loro, diciamo, felicità, ai loro possibili amori, insomma, tutte e due hanno avuto un'occasione mancata, con due personaggi e anche questi chiave del racconto, no? Quello che sarà il generale, che prima è un penente, e questo Messier Papin, che era questo cantante lirico, insomma, che voleva fare andare Filippa all'Opera di Parigi. E tutti e due in qualche modo vengono respinti, ma tutti e due continuano ad avere il pensiero rivolto a queste due signorine, che ormai sono diventate molto anzianotte. Però volevo rileggere con voi l'ultima parte di questo racconto per commentarlo insieme a proposito della vita dell'artista e della necessità dell'artista poi di porsi, di esprimersi, insomma, perché, diciamo, cosa ha mosso Babette a rinunciare a 10.000 franchi, insomma, alla fortuna, a poter ritornare in Franza e a produrre se stessa in questo pranzo che ha divorato tutta la vincita, no? Dopo 13 anni che nessuno sapeva niente e in cui non aveva mai chiesto niente, aveva soltanto dato a questa comunità, no? E come cosa l'ha mossa a fare questo, rimanendo poi del tutto anonima? Tutti quanti poi se ne andranno da questa cena senza nemmeno salutarla e lei resterà sola, soltanto le signorine andranno a dirle qualche parola alla fine di questo pranzo, cena, insomma, quello che è per ringraziarla, insomma, perché poi questo pranzo sarà molto importante, no? Perché riuscirà a riunire, senza volerlo, a riunire e a riappacificare questa comunità in crisi, insomma, no? Si riuscirà a creare attraverso la sua arte, attraverso i suoi cibi che vengono ignorati dalla gran parte della comunità, essetto dal generale, insomma, da questa figura importante per capire quello che sta succedendo e per commentare quello che lei porta in tavola. Tutti quanti non riconoscono quello che lei fa o quello che lei ha fatto o cosa stanno mangiando, però alla fine, diciamo, l'arte, quello che lei produce, si manifesta attraverso il cambiamento dell'atmosfera. Questa gente triste, un po' vendicativa, insomma, si riappacifica, c'è un'atmosfera che cambia completamente e ritrova uno spirito di comunità, uno spirito, un legame che li fa sentire bene insieme e tutti partono, in qualche modo, da questa cena riappacificati, gioiosi, tranne a dimenticarsi di lei, insomma, che anche della sua presenza, insomma, l'ignorano completamente, no? E allora c'è questo resoconto, poi, alla fine, quando Martina e Filippa si ricordano di Babette e quindi le coglie un po' di tenerezza, di compassione, perché soltanto Babette non aveva spartito la felicità della serata. E allora vanno in cucina, no? E dicono, vabbè, insomma, è stato un ottimo pranzo, no? E improvvisamente diventano come riconoscenti e se rendono conto anche che nessuno degli ospiti aveva detto una parola sul cibo, ma erano state loro a convincere gli ospiti a non commentare assolutamente i cibi, no? E vabbè, poi c'era stato l'episodio della tartaruga. Comunque, insomma, Babette si mette a sedere sul ceppo, circondata da pentole, padelle, insomma, ne aveva usate tante ed è stanchissima, no? Era pallida, sfinita, come la sera quando era arrivata sotto la pioggia e così via. E dopo un pezzo, allora, guarda le sorelle e sicuramente si rivelano e dice, per la prima volta dopo 13 anni, una volta ero cuoca al Café Anglais, no? Il Café Anglais, tra l'altro, è quello dove andavano a pranzare sia Messie Papin, il tenore, che aveva, diciamo, corteggiato a modo suo una delle due sorelle, sia il tenente, che poi è diventato generale e che è presente alla cena. Allora Martina le dice, eh, l'hanno pensato tutti, che era un ottimo pranzo. e poi lei non risponde e le dice ancora, ricorderemo tutti questa serata quando voi sarete tornata a Parigi, Babette, perché pensano che dopo questo pranzo alla fine lei se ne tornerà con la sua vincita a Parigi, no? Perché la pensano ancora in possesso dei 10.000 franchi. E Babette dice, non torno a Parigi, no? Come? Non tornate a Parigi? Dice Martina. Eh no, disse Babette. Che cavolo farai a Parigi? Sono andati tutti. Li ho persi tutti, madame. E tutti a chi si riferisce, no? Il pensiero delle sorelle andò a Messier San, cioè al marito e al figlio di Babette. E dice, oh, povera Babette, ma non capiscono nella loro grettezza cosa è successo a Babette. E Babette dice, sì, sono andati tutti. E li nomina. E nomina persone che non sono, nel marito e nel figlio. Il duca di Mogli, il duca di Decazé, il principe Nelischin, il generale Galifè, Aurelian Scholl, Paul Daru, la principessa Paolina, tutti. E chi sono questi che lei nomina? Tra l'altro nel film questo non compare, non si dice. Gli strani nomi e titoli delle persone che Babette rimpianze, no? Che lei ha perduto, confondono un po'. Le due signorine, no? Non sanno a chi si riferisce, no? Erano persone invece celebri nella Parisi dell'epoca, perché erano quelli che avevano fatto impiccare o ammazzare i comunardi. Ma quell'annuncio era una così sconfinata prospettiva di tragedia che addirittura si commuovono con lei e piangono. E quindi un altro momento di silenzio. E Babette all'improvviso un piccolo sorrisetto e dice «Come potrei tornare a Parisi, madame? Io non ho denaro». E qui ammette che ha speso tutto, no? «Non avete denaro?» gridarono le sorelle come con una bocca solo. «E no», disse Babette, «Ma i diecimila franchi», chiedono le sorelle ansimando inorridite, perché nella loro logica insomma, no? di risparmiatrici e di buttare via diecimila franchi così, insomma, era una cosa assurda. E dice «I diecimila franchi sono stati spesi, madame», dice Babette. E le sorelle rimangono sconvolte, si mettono a sedere e per un minuto non riescono a parlare. «Ma diecimila franchi?» sussorrò lentamente Martina. «Beh, che volete?» «Madame», disse Babette con grande dignità, «un pranzo al caffè anglais a Parigi costerebbe diecimila franchi e un pranzo per dodici. Le signorine anche in questo caso rimangono zitte e non sanno cosa dire. per loro era incomprensibile questa cosa, no? Ma quella sera tante cose per loro in un modo o nell'altro erano rimaste incomprensibili. Caro Babette disse con dolcezza una delle due «Non dovevate dar via tutto quanto per noi» e questo è il punto chiave secondo me. Cioè non dovevate spendere tutti i vostri soldi per noi, perché loro sconquinte che l'hanno fatto per loro e Babette avvolse il suo padrone con uno sguardo profondo in uno strano sguardo «Non vera, in fondo adesso pietà o forse anche scerno?» dice la Blixen e Babette dice «Per voi!» replicò «No, non l'ho fatto per voi! L'ho fatto per me!» A questo punto si alza dal ceppo si ferma davanti alla sorella Rita e dice con orgoglio «Io sono una grande artista!» disse aspettò un momento poi ripetè e quindi lo ribadisce «Sono una grande artista!» «Madame!» poi per un pezzo vi fu in cucina a un profondo silenzio e allora una delle due che in realtà insomma non pensa con un altro modo di pensare dice «E adesso sarete povere per tutta la vita!» Babette e Babette risponde «Da artista!» «Povera?» e sorrise come a se stessa «No!» «Non sarò mai povera!» e qui è l'artista che parlano «Non sarò mai povero!» «Ho detto che sono una grande artista!» «Un grande artista!» «Madame!» «Non è mai povero!» «Abbiamo qualcosa madame di cui gli altri non sanno nulla!» Quindi qual è il problema dell'artista insomma è quello di far sapere quello che ha e che non lo renderà mai povera perché è un qualcosa che ti vale ovviamente sei un vero artista insomma no? A questo punto Filippa si ricorda che aveva sentito parlare da Papin che aveva sentito parlare prima di allora molto tempo fa del caffè e aveva sentito pronunciare prima d'allora molto tempo fa i nomi del tragico elenco di Babette quelli che aveva ricordato prima che erano questi nobili insomma che combattevano contro i comunardi si alzò e fece un passo verso la sua serva ma dice a tutte le persone che avete ricordato quei principi quei grandi signori di Francia che avete nominato voi Babette voi stessa avete combattuto contro di loro eravate una comunard il generale che avete nominato ha fatto fucilare vostro marito e vostro figlio come potete pianzerli e qui agli occhi scuri di Babette si incontrano con gli occhi di Filippa sì disse era una comunard grazie a Dio era una comunard e tutte le persone che ho nominato madame erano malvagie e crudeli quindi insomma lei ha combattuto la comunard hanno fatto morire di fame il popolo di Parigi hanno oppresso i poveri e li hanno trattati ingiustamente grazie a Dio sono stata su una barricata e ho caricato il fucile per i miei compagni uomini insomma ha fatto la scelta giusta di combattere contro queste persone ma tuttavia c'è un però un ma non tornerò a Parigi ora che le persone di cui ho parlato non ci sono più e qui rimase immobile smarrita al ricordo e va avanti perché madame disse alla fine questa gente mi apparteneva era mia l'artista trova senso nella sua vita di venire incontro cioè di avere un suo pubblico qualcuno che lo comprende che comprende che comprende il suo lavoro e quindi che gli appartiene perché sa che riesce a convincerlo e a gratificarlo ed è a sua volta gratificato cioè questa gente lei dice era stata allevata ed educata e quindi la necessità di dell'educazione per comprendere l'arte con una spesa molto maggiore a quella che loro mi è graziosa il Signore potranno mai immaginare o credere era stata educata a capire quale grande artista sono io no l'unico quella serata che aveva capito quale grande artista poteva essere e che aveva collegato le cose era stato il generale tutti gli altri avevano assolutamente snobbato avevano scambiato lo champagne con limonate insomma cioè non avevano assolutamente capito niente però l'arte nonostante questa ignoranza era venuta fuori lo stesso perché aveva cambiato l'atmosfera della serata il clima in cui queste persone si sono mosse per tutto il tempo successivo e Babette dice era stata allevata ed educata con una spesa molto maggiore di quella che loro mi è graziosa il Signore potranno mai immaginare o credere educate a capire quale grande artista sono io quindi ci vuole educazione e questa educazione costa anche per capire l'arte in questo caso l'arte della cuoca ma possiamo pensare anche a tante forme d'arte e dice potevo renderla felice il suo orgoglio era la sua capacità di rendere felice coloro che erano stati educati a capirla quando facevo del mio meglio riuscivo a renderla perfettamente felice ecco l'orgoglio dell'artista no? quando faccio del mio meglio e sono messo nella condizione di fare del mio meglio e quindi ho un pubblico che è educato per capire quello che faccio riesco a renderlo perfettamente felice l'arte può rendere felice ovviamente chi la sa cogliere e qua si ferma un momento è stato così anche per Messier Papin disse Messier Papin era stato rifiutato da Filippa no? perché diciamo tramite la musica di Mozart il duetto tra Don Giovanni e Zerlina insomma no? Papin l'aveva baciata sulla fronte insomma mostra il film diciamo causa la musica di Mozart per Messier Papin chiese Filippa sì dice Babette per il suo Messier Papin povera signora mia me l'ha detto lui stesso è terribile è insopportabile ha detto Papin no? essere un artista diceva essere incoraggiato a fare essere applaudito per aver fatto meno del mio meglio cioè l'artista sa di meritare l'applauso quando ha dato tutto di sé quando ha fatto il suo meglio e quando è stato riconosciuto per il suo meglio no? diceva per tutto il mondo risuona un solo grido lungo che esce dal cuore dell'artista consentitemi di fare il meglio che posso ecco consentitemi datemi l'occasione la possibilità di dare il meglio di me stesso di fare il meglio che posso io voglio essere applaudito risuotere il consenso quando ho la coscienza di aver dato tutto quello che potevo questo poi è l'orgoglio dell'artista no? e Filippo andò da Babette e la strinse fra le brazza sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro il proprio ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi vabbè e qui si arriva al finale ma secondo me insomma questa problematica sulla necessità dell'artista questo personaggio questa Babette che si realizza anche con un pubblico che o con una diciamo con delle persone che non riescono a comprenderla ma che a un certo momento della sua vita riesce a vincere un premio è tutto quello che ha dopo che si spende gratuitamente da tanti anni per due signorine che alla fine in un ambiente in cui non riceve nessuna gratificazione lei la grande cuoca del caffè d'anglais a Parigi insomma la più grande cuoca del mondo insomma e dopo tutti questi anni riesce ad avere questa vincita e riesce a spendere quindi a cercare di procurarsi tutti gli ingredienti e di spendere tutti i suoi quattrini ma non solo anche tutte le sue energie per contribuire a questa ricorrenza a questa festa a questo giorno in cui ci ricordava il centenario della morte del fondatore con un gruppo di persone insomma anziane decadenti grette abbastanza meschine insomma nella loro diciamo fede abbastanza esaltata ci sono anche tante citazioni bibliche nel racconto insomma forse ci sono altre chiavi di lettura io ne do una insomma ma ognuno poi può scegliere anche altre chiavi di lettura comunque lei spende tutto quello che aveva tutte le sue energie tanto vero che nel racconto si dice che poi alla fine era come quando era arrivata insomma era arrivata che si era accasciata sfinita senza forza senza energie e quindi senza essere riconosciuta poi insomma soltanto per la necessità in qualche modo di fare qualcosa che le dimostrasse ancora una volta quello che poteva valere per essere messa in condizione per mettersi in condizione per trovare l'occasione di esprimersi quindi il gruppo di persone per le quali cucinare e spendere tutte le sue risorse per dimostrare il suo valore d'artista e finalmente potessi dichiarare anche artista e far sapere cosa significa o cosa poteva aver significato anche le contraddizioni che aveva vissuto essere artista in una società più complessa come poteva essere quella parigina rispetto a quella di un piccolo paese della Norvegia in un fiorvo della Norvegia e quindi finalmente riesce a dichiararsi e questo secondo me insomma è un po' la chiave di lettura di questo racconto poi il racconto si snoda ed è molto bello anche come è costruito perché queste storie un po' si intrezzano le occasioni mancate delle due signorine il tenente che poi diventa generale il tenente che a un certo punto non riesce ad esprimersi non riesce a dichiararsi e a un certo punto rinuncia e cambia vita si butta in altro si butta nella carriera però soffre non sa e arriva anziano anche lui a dubitare ancora del valore della scelta che ha fatto e quella sera partecipa a quella cena cercando di verificare se quella scelta che aveva fatto allora era quella giusta oppure no e a un certo punto si alza e fa un discorso che potrete riascoltare che è molto bello da sentire anche quello con citazioni bibliche e poi questo Messier Papin innamorato della musica ma anche innamorato di Filippa in qualche modo innamorato e che arriva in Norvegia a 40 anni per curarsi da un momento di crisi non sa bene come sarà la sua vita eccetera e poi sentendo cantare Filippa a un certo punto ritrova lo slancio ritrova il coraggio e quindi si illude con lei di poter calcare poi le scene dell'Opera di Parigi e trasportato poi cantando con lei il duetto di Don Giovanni e Zerlina a un certo punto si sente trasportato e le dà un bacio sulla fronte e non sa neanche lui se l'ha baciata o no insomma no perché in realtà non è lui che l'ha baciata ma è l'arte Mozart insomma che che stava cantando con passione con lei e che aveva trovato una partner con la quale fare qualcosa insieme anche qua l'arte che crea comunicazione tra chi la fa questi legami che succedono tramite l'arte e in quel momento lei poi diciamo fa scrivere questa lettera al padre e lui se ne va deluso no e quindi questa chiusura anche queste occasioni mancate di queste signorine che poi rimangono zitelle chiuse in una vita triste no una vita nonostante la loro beneficenza ai poveri che poi diventa possibile e diventa utile quando ricevono poi l'aiuto da parte di dal quale credono di far beneficenza ma insomma in realtà chi ha portato un po' di gioia in quella in quella casa in quella realtà è stata è stata Babette no? ecco quindi costruito bene no? perché queste storie si intrezzano tra di loro no? hanno tutti hanno poi un legame che 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 sfocia nel caffè anglais insomma dove arrivano il generale e dove e dove arriva Mercier Papin insomma e dal quale poi parte Babette per questa sua avventura norvegese e dove finirà Babette insomma come come si conclude il racconto insomma no? si conclude ripetendo poi un'altra cosa che viene citata nel in un'altra parte nel racconto no? a un certo punto Papin dirà Filippa voi canterete in paradiso con gli angeli una cosa del genere se ricordo bene no? e qui la fine del racconto no? e a un certo punto ci dice per un poco non riusci a parlare e poi sussurrò questa è una delle due sorelle Filippa per un poco non riusci a parlare poi sussurrò eppure non è la fine insomma il racconto poi parla anche no? della fine anche il discorso del generale no? queste cose le scelte anche quelle non fatte alla fine ritornano c'è una specie di grazia insomma c'è qualcosa che che fa sì che non tutto sia perso comunque insomma che si possa anche cambiare e rientrare in una scelta mancata che non è stata fatta in un certo momento o nel momento in cui è stata fatta la scelta sbagliata e quindi eppure non è la fine dice sento Babette che questa non è la fine e qui insomma in paradiso e qui è la comunità cioè diciamo è la la fede che si respira in questo gruppo in questa comunità in questo gruppo di di protestanti no? in paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso che foste cioè ormai in terra non ha più possibilità no? perché perché soldi non ne ha più quella comunità quello è quanto può darle e e da quella comunità non potrà nascere nient'altro anche Babette ormai è diventata più vecchia no? e quindi quale speranza può si può lasciare nel racconto a Babette quest'ultima insomma del paradiso no? in paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso che foste e quindi anche qua insomma c'è l'allusione al fatto che l'essere artista in qualche modo è una grazia che si riceve da Dio insomma no? non è tanto una costruzione un lavoro che so io insomma no? che l'artista fa per essere ovviamente insomma non si nasce artisti oppure si nasce anche artisti ma si è bisogno di un lavoro per diventarlo e comunque in paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso che foste oh soggiunse e le lacrime le grondavano giù per le guance oh come incanterete gli angeli e questo discorso un po' degli angeli ritornerà fuori poi anche in questa stessa raccolta di racconti in un altro racconto sempre della Blixen che troverete nei prossimi giorni e cioè nel pescatore di perle altro personaggio interessante che fa due esperienze completamente diverse di vita ma lo ascolterete molto presto una buona serata e auguri di buona Pasqua di buona